E' un uomo simbolo in una città con pochi atti di vero coraggio. I sicari, forse due, hanno agito alle sue spalle, gli hanno sparato prima al torace, poi due colpi alla testa. Libero Grassi lo scorso anno era stato protagonista di un gesto controcorrente. Aveva rifiutato di pagare il pizzo, qualche giorno dopo aveva subito una rapina. Un messaggio esplicito, come dire, senza protezione che può cadere di tutto e di peggio. Un messaggio esplicito, come dire, senza protezione che può cadere di tutto e di peggio. E' stato commemorato questa mattina a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che fu ucciso il 29 agosto del 1991, perché non si piegò al racket dell'estorsione. Per il sottosegretario all'interno, il terzo recusato, ci sono imprenditori che sull'escia di quanto fatto Libero Grassi... Per il sottosegretario all'interno, il terzo recusato, ci sono imprenditori che sull'escia di più.